Per la ricchezza che mi hanno dato di incontri fatti, per i cittadini comuni, associazioni, ordini professionali, imprenditori, giovani, anziani, tutti mi hanno lasciato qualcosa di importante e quindi questo è stato già un grosso successo e mi ha convinto di aver fatto la scelta giusta ad accettare la candidatura e io penso che le campobastane e i campobastane ci preveranno perché abbiamo offerto loro un programma e delle proposte serie, concrete e realizzabili che guardano la città a 360 gradi e siamo una squadra di persone che abbiamo messo in gioco il nostro tempo, la nostra professionalità e soprattutto abbiamo passione ed impegno civile e siamo al servizio solo dei nostri concittadini, non di interessi e di poteri forti.